Torres Nurese, domenica al Vannisanna, è il derby più importante di questa giornata in Sardegna. Due squadre tutte da scoprire, soprattutto la Torres con una nuova formazione che non ha avuto collaudo probante sul campo. Anche se l'incontro con Ostia Mare in Coppa Italia, pur essendo una delle formazioni laziali più accreditate per la stagione, ha dato segnali incoraggianti di tenuta e agonismo. I Nuresi avranno il loro perno principale nelle giocate di Molino, il giocatore di rifinitura nella formazione barbaricina, mentre i Sassaresi contrappongono la fantasia e la qualità di Roberto Merino, l'uomo che ha dimostrato di segnare e di far segnare. Ottimista Mr. Bacci, che spera di aver recuperato appieno i tanti giocatori infortunati nelle settimane scorse. Anche Latte Dolce, pronto alla sfida. Dopo oltre un mese di duro lavoro sul campo di Via Leoncavallo e i tanti test amichevoli sostenuti, con il doppio turno di Coppa Italia affrontato e superato con successo contro Santiodoro in casa e Arzacchene in Gallura, i biancocelesti del presidente Fresu vivono la prima vigilia del campionato interregionale 2016-17 con un po' di sana tensione. Il coach Massimiliano Paba, che ha tenuto a riposo Ruggio per affaticamento nell'amichevole Colzintino di Udassi, ha garantito che domani sarà regolarmente a disposizione.